e buongiorno oggi è il mio compleanno amore che vi hai portato? guardate qua che bei fiori adoro, amore che c'è in questa scatola? colazione bello tutta argenta mamma apriamo? ti piace? apriamo andiamo ad aprire oggi è il mio compleanno vlog del mio compleanno wow ma com'è bella questa scatola tutta argenta e cosa c'è dentro? il succo poi c'è la brioche come è buono? buono la brioche la pizzetta questa è mia adoro a quei titane ci sta ah un'altra pizzetta due pizzette apri apri poi c'è un cornetto questa è mia è tua no è mia è il mio compleanno è il mio è l'ambo è il tuo compleanno? si guardate che bello grazie amore oggi è il mio compleanno il grande giorno stasera grande festa ragazze perché come sapete io l'anno scorso non ho festeggiato perché se vi ricordate vi feci anche il video youtube nel frattempo mi sto facendo il peeling pelle di seta mi sto preparando con tutta la skin care come sapete carlita beauty per farmi bella e tra l'altro abbiamo la promo su carlita shop per l'occasione del mio compleanno vi ho messo tutti i prodotti carlita beauty scontati questo peeling è pazzesco vi rimuove tutte le imperfezioni le impurità i pori brufoletti punti neri tutto dopo mi faccio la maschera filtro bellezza sempre nel mio brand carlita beauty anche questa è pazzesca per i pori per le imperfezioni per illuminare la pelle e se volete avere una pelle bellissima fate prima pelle di seta il peeling enzimatico e poi la maschera filtro bellezza e dopo avete una pelle senza un poro senza un punto nero luminosa levigata adoro vi dicevo tutti i prodotti carlita beauty sono scontati su carlita shop anche il nuovo lip paradise set set duo per le labbra rimpolpante e in più abbiamo attivato un codice per voi il compleanno il mio ma il regalo lo faccio a voi che vi da il 25 per cento di sconto quindi che è tantissimo per 24 ore quindi lo sconto più grande per c'è 25 per cento di sconto senza spesa minima solo per 24 ore quindi flash il codice che dovete inserire è hb day carlita quindi hb day carlita quindi è più verde carlita sarebbe e approfittate ragazzi è valido su tutto il sito carlita shop e potete fare scorta spero che questo regalo in modo per festeggiare insieme vi faccia piacere scrivetemi nelle note buco flanno carlita vi prego fatelo perché così mentre preparo i vostri pacchi vi delizio a leggere i vostri vostri auguri comunque questo peeling va applicato e poi va massaggiato ragazzi il peeling pelle di seta è un peeling enzimatico che veramente vi migliora la pelle e io stasera devo avere una pelle bellissima vi ho detto che ho organizzato una bellissima festa in un posto stupendo che tra poco vi farò scoprire perché vi porterò con me in questo vlog e devo essere bellissima una festa stupenda perché vi dicevo l'anno scorso io non ho festeggiato perché se vi ricordate vi pubblicai anche un video qui su youtube in cui vi dissi che avevo dei problemi non mi soffermai perché ero nel clou del mio momento buio e ho sofferto di depressione maggiore quindi ho avuto una depressione molto molto forte sono stata malissimo cioè pensate che il giorno del mio compleanno ho pubblicato uno screen nelle storie G andatelo a vedere di un messaggio che mandai al mio migliore amico e praticamente ci sono scritte le parole veramente bruttissime che a leggerle ora mi fanno male e io stavo veramente veramente male quindi sono una dimostrazione vivente che si può uscire da periodi bui e che si può guarire si può tornare a vedere la luce adesso sono felicissima ieri già ho fatto un anticipo del mio compleanno perché Dario mi ha organizzato una cosa internosso con gli amici più stretti per aprire la torta a mezzanotte a casa dei miei quindi siamo stati con gli amici più stretti e la mia famiglia e vi giuro io ero così felice ho detto mamma mia chi l'avrebbe mai detto l'anno scorso che sarei stata così felice ce l'ho fatta a superare questo momento buio veramente se ci penso mi commuovo perché è stato un momento bruttissimo della mia vita quindi se state soffrendo di depressione o problemi mentali o avete semplicemente un momento buio della vostra vita non mollate perché tornerà il sereno e io ne sono la dimostrazione ragazzi veramente che si può guarire e dovete lottare perché la vita è bella e ci riserva tante tante gioie anche se adesso vi sembra impossibile crederlo vi assicuro che è così bene dopo aver massaggiato il peeling lo lascio agire 10 minuti poi vado a sciacquare e poi applico la maschera se dopo il peeling ho applicato anche la maschera filtro bellezza vi ho detto che questa combo pelle di seta e filtro bellezza peeling e maschera avete una pelle pazzesca dopo senza imperfezioni senza impurità senza brufoletti punti neri i pori veramente chi la prova mi dice ma cosa ci hai messo dentro perché io non ho più un poro non ho più un brufoletto non ho più un punto nero e la pelle è super luminosa proprio veramente levigata come se aveste un filtro sulla pelle quindi molto molto migliorata e più bella eccola qua filtro bellezza tutti i prodotti trovate scontati su carlita shop e vi ho detto con il codice hbd carlita avete il 25% di sconto su tutto il sito veramente un codice sconto straordinario per 24 ore se guardate che pelle favolosa ho applicato anche la crema perla di idea sempre carlita beauty e il contorno occhi risplendi quindi anti rughe e anti occhiaie sempre della linea carlita beauty e guardate che pelle super perfezionata ho senza più un poro un'imperfezione veramente favolosa e ho messo sulle labbra ho fatto il lip paradise set quindi ho fatto sia lo scrub che ho messo il balsamo labbra rimpolpante guardate che belle labbra super carnose avete tutti i prodotti scontati carlita beauty su carlita shop al 20% quindi approfittate tenete conto che sono andati a ruba stanno andando a ruba infatti il siro gocce di luce ad esempio già sold out quindi fate in fretta a prendere questi prodotti che vi ho mostrato perché stanno andando a ruba visto che sono scontati e sono favolosi guardate come sono bella merito di angela e piera venite qua guardate le dovete seguire su instagram presentatevi vai angela buonanno allora angela buonanno è bravissima ragazze e lei è la sua allieva piera ciao piera ben ci venga ben ci venga sono bravissima hanno fatto un make up stupendo guardate che bello adoro grazie adesso abbiamo fatto da di se ci dobbiamo muovere a dopo ce ne adoro grazie 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 3, 2, 1 eccoci ragazze nel grottone guardate che meraviglia una meravigliosa location qua in Villa Vazia io mi sono innamorata di questo posto appena che l'ho visto cioè stupendo qui si respira aria di mare questa è una grotta naturale Villa Vazia è una dimora antica veramente dove si vivono momenti suggestivi e indimenticabili guardate qua che bella la location con tutti questi colori tutti gli addobbi fiori guardate che meraviglia adoro alla follia guardate meraviglioso non vedo l'ora che arrivano tutti guardate le luci è arrivato anche il dj e adesso fra un po' si inizia eh e qui ci sono io col mio meraviglioso abito l'abito boutique del mastro ragazzi è una boutique bellissima che vi consiglio io li prendo sempre là gli abiti vi piace? adesso vi faccio fare una ripresa vabbè poi venite su IG dove vedete tutte le foto guardate che meraviglia adoro guardate quanto sono belli i miei amori adoro sono bellissimi Daniel si è fatto anche il nuovo taglio di capelli amore guarda sei bello sorridi è il mio amore grande siete bellissimi sei contento? amore saluta andiamo pure di lato e sali dolci bellissimo ciao